Il Dipartimento di Agraria è presente in questa manifestazione che investe la Villa Comunale in qualità di sponsor. Già da otto anni noi organizzavamo una manifestazione dedicata al vivaismo specializzato su degli anti-succulenti. Quest'anno, grazie alla disponibilità del Comune, questa mostra si terrà qui alla Villa Comunale. Ovviamente l'Avvvimento di Agraria ha prestato sempre attenzione alla conservazione della biodiversità, alla gestione del verde, alla organizzazione degli spiriti in città con alberature, con materiale verde idoneo al contesto urbano. E' proprio questo qui il significato della presenza del Dipartimento di Agraria anche in questo contesto della Villa Comunale. Noi produciamo essenzialmente tecnici, professionisti che sono in grado ovviamente di gestire. Un esempio più eclatante è proprio le professionalità che attualmente gestiscono il verde urbano di Reggio Calabria, con i nostri laureanti che si occupano della gestione di questo verde e quindi il Dipartimento Agraria è in primo luogo nella formazione e poi nella professionizzazione di queste figure.